Arrivano i recovery fund. L'Italia vince o perde questa sfida europea. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono Mauro Caimi e oggi parliamo dei recovery fund e di quello che è successo nell'Eurogrupo di ieri per quanto riguarda le forme di finanziamento e di sostegno a quella che sarà poi l'eventuale ripresa economica in risposta al virus, alla pandemia che stiamo affrontando in questi giorni. Sono anni che l'Europa cerca la sua identità, l'abbiamo visto diverse volte e ne ho anche parlato, ragazzi, in qualche video perché quasi sempre l'Unione Europea si è dimostrata tardiva a rispondere a determinate tematiche, a determinate fasi di crisi. Questo momento particolare stia iniziando a cambiare le carte in tavola. Abbiamo visto l'Unione Europea a smuoversi, ancora non abbiamo i numeri in mano, ancora è embrionale, ancora il discorso è abbastanza leggero, ragazzi, però abbiamo visto un po' di reazione delle idee diverse balenari all'interno dell'Unione Europea, come quella appunto della proposta dei recovery fund, appunto di questi bond europei, poi chiamiamoli come vogliamo. Non sembra più quella stanza, quella casa con le stanze chiuse, questa è Europa, ma sembra più un ritroviamoci in sala da pranzo, ancora non ceniamo insieme, non si festeggia insieme, ma gli spritz sono arrivati, io la definirei così. Oggi parliamo di cosa sono i recovery fund e chi li ha promossi e poi come dovrebbero funzionare, qual è il loro meccanismo e quando entreranno in vigore, quando li avremo in Europa e con quali numeri, ragazzi. E poi, alla fine del video, come sempre, come hanno reagito i mercati a questa notizia, cosa dicono i numeri dei grafici che, come sappiamo, non mentono mai. Ma prima di andare avanti in questo video, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un pollicione in su, che mi date una mano, ovviamente, sono grazie, ragazzi, ok? Con l'algoritmo YouTube. E poi, una cosa importantissima, ragazzi, cosa ne pensate voi di questi recovery fund? cosa potranno rappresentare per l'Europa anche in futuro, per noi che siamo le persone che poi si hanno a stretto contatto con queste problematiche, più che quelli chiusi, appunto, nei grandi palazzi. Quindi, fatemi sapere la vostra opinione. L'Europa segnerà questo gollo, oppure per l'ennesima volta sarà un blef, come spesso ci hanno abituato a vedere in questi anni. Fatemelo sapere nei commenti. I recovery fund, ragazzi, sono un fondo, proposto per lo più da Conte e Macron, quindi passa la linea italiana in Europa, cioè quella della richiesta di un fondo di emergenza, di creazione di questo fondo di emergenza, per poi erogarlo a tutti i paesi che ne fanno richiesta, e che sono stati quelli più colpiti dal coronavirus e dalla pandemia. La linea, ragazzi, sostenuta dall'Italia, in principio da sempre dal presidente Conte, appoggiato chiaramente da Macron. Sono anche soprannominati gli Ursula Bond, ragazzi, lo vedremo anche, mi fa ridere sta roba, è anche simpatico, è un po' meglio dire recovery fund, insomma, perché sono in mano, in sostanza, alla Commissione Europea, lo vedremo tra poco nel video, quindi sono in mano alla von der Leyen, ragazzi, quindi Ursula Bond, più figo come nome, secondo me. Questo fondo, ragazzi, alla fine, sono soldi presi in prestito dalla Commissione Europea e garantiti dal bilancio dell'Unione Europea, quindi sono veri e propri Eurobond. La Commissione Europea potrà prendere a prestito questi soldi, questo denaro, dal mercato e costituire questo fondo comune, che rappresenterà una serie di risorse disponibili a livello monetario per la Commissione Europea e spendibili poi verso gli Stati Europei che ne faranno richiesta. In sostanza, la Commissione, ragazzi, aumenta le risorse a sua disposizione in base al bilancio che presenterà. Le risorse potrebbero aumentare intorno al 70%, ragazzi, rispetto a quelle che attualmente già sono previste. Non abbiamo però idea dell'importo totale, cioè quanto sono mille miliardi, duemila miliardi, cinquecento miliardi. Non lo sappiamo ancora, perché dipende dal bilancio che la Commissione Europea dovrà presentare, quello relativo agli anni dal 2021 al 2027. Appunto, sui numeri, ragazzi, come verranno erogati, è proprio la chiave di questi recovery fund ed è quello che in questo momento sta facendo riflettere anche il mercato che vedremo tra poco appunto cosa sta pensando di questa situazione. Quando dovrebbe essere creato questo fondo di recovery appunto? Il 6 maggio prossimo la Commissione Europea dovrà indicare le linee guida perché indicherà appunto i numeri di bilancio e da qui noi potremmo anche avere idea di quanto saranno le somme disponibili al recovery fund e quindi a disposizione degli stati che ne faranno richiesta. Ed in questo punto, ragazzi, avviene la magia, cioè la chiave, la lettura politica di questi recovery fund. Saranno sovvenzioni oppure prestiti? Questa è la vera differenza, ragazzi, perché se i recovery fund saranno delle sovvenzioni come chiede l'Italia, la Spagna, anche la Francia, anche il Portogallo, anche la Grecia, allora saranno in pratica dei finanziamenti a fondo perduto. Perché, ragazzi, l'Italia, anche sostenuta dalla Spagna, Francia, eccetera, chiedono questi finanziamenti a fondo perduto? Perché la richiesta questa volta è legittima? E quindi, in sostanza, il recovery fund dovrebbe dare delle sovvenzioni, ragazzi, non dei prestiti. Perché questo shock di mercato, questo shock economico che noi stiamo vivendo in questo momento, dato dalla pandemia, è uno shock di natura simmetrica, ragazzi, cioè avvenuto negli stessi stati europei in maniera più o meno identica. La linea italiana dice, ragazzi, in questo caso, che se noi andiamo ad agire con dei prestiti, andiamo a creare delle asimmetrie economiche ad un problema che invece era simmetrico, in sostanza, ragazzi. Questo problema non è stato causato dalle inefficienze dello Stato italiano, come quello spagnolo, come quello francese. Non è dovuto al fatto che noi abbiamo i conti in disordine, anche perché non abbiamo i conti in disordine, ragazzi. Non è dovuto a questo. È dovuto a un problema contingente che ha colpito tutta l'Unione Europea. Però ne pagano di più le conseguenze i paesi che erano un po' più deboli, ragazzi, in quanto hanno un sistema di indebitamento che è più costoso. Infatti l'Italia paga tassi di interesse maggiori rispetto alla Germania. Perciò la linea dell'Italia, in questo caso, è sovvenzione degli Stati europei più colpiti, altrimenti andiamo ad aumentare queste asimmetrie, cioè andiamo ad aumentare le distanze tra gli Stati europei tra i più ricchi, in pratica, e i più poveri. Perciò la richiesta e la linea italiana sarà quella delle sovvenzioni, quindi di finanziamenti a fondo perduto. Ma non è solo l'Italia a chiederlo, ragazzi. Ve lo ripeto, ci sono anche altri paesi, come la Spagna, la Francia, Portogallo, Grecia, i classici paesi, diciamo, del sud, a parte la Francia, mentre dall'altra parte, contro le sovvenzioni, ma a favore dei prestiti, ci sono i soliti paesi del nord Europa. Questa volta, però, la Germania fa da Spola. Ancora una volta, dire la verità, già nell'ultima riunione era sembrata, diciamo, non stare da nessuna parte, fa l'arbitro in questo caso, ragazzi, perché dice che aumenteranno molto le loro sovvenzioni, appunto, al bilancio europeo, quindi loro daranno una grande disponibilità economica, ma ancora non si schierano tra paesi del nord e paesi del sud, che i paesi del nord vogliono che queste sovvenzioni siano prestiti, ragazzi. In sostanza, devono essere restituiti, mentre i paesi del sud dicono sono a fondo perduto. Qui si gioca la battaglia politica. Quale sarà la probabile soluzione della Commissione europea? Dovinate un po' la linea di mezzo, quindi la linea centrale. Probabilmente questi recovery fund, ragazzi, saranno un misto tra sovvenzioni e prestiti. È anche vero che la Commissione europea, in particolar modo, è molto vicina all'Italia. Spesso ha dimostrato questa linea estremamente, diciamo, vicina alle problematiche italiane in questo momento, al Presidente Conte, alla linea del governo italiano. Però, ragazzi, devono anche tener conto, probabilmente, di quelli che sono i pensieri di tutti gli altri stati. Quindi, in linea di massima, quando il 6 maggio avremo i numeri, ragazzi, dopo la riunione della Commissione europea, e sapremo se faranno sovvenzioni o prestiti. Probabilmente questa linea a metà strada sarà la soluzione perfetta. Il tutto poi dovrebbe essere anche operativo, ragazzi, in tempi molto brevi, a giugno. Questo non solo perché il Presidente Conte lo richiede in maniera molto forte in Commissione europea già da mesi, ma anche perché la Lagarde, che si è risvegliata ogni tanto, quindi il Presidente della nostra BCE, ha detto che la situazione ha bisogno, urgentemente, di decisioni di natura fiscale, politico-fiscale, come questi, che non bastano quelli che la BCE ha preso in pratica, anche perché prevedono una riduzione del Pile europeo tra il 5 e il 15%, quindi la situazione è molto grave da un punto di vista di fondamentali economici. Cosa pensano i mercati di questa news? Ragazzi, in questo momento, all'apertura delle borse europee, i mercati sono stati negativi. Perché? Perché c'è il famoso sell on news, ragazzi. Sell on news è un atteggiamento dei mercati che nelle prime ore dopo una notizia importante assume appunto questo tipo di atteggiamento, cioè si vende, ragazzi, si parte in perdita. Perché? Perché le notizie, sia belle che brutte, sono sempre prese con il sell on news, appunto si chiama così, quindi vendi sulle notizie. Ma in sostanza, se questo recovery fund ha un atteggiamento di natura fondamentale sul sviluppo dell'economia europea, cioè se sarà un altro grande piano Marshall, come è quella, la richiesta del governo italiano a mani forti, ragazzi, se sarà effettivamente un altro piano Marshall, vi faccio capire, cioè se immetteranno mille, mille e cinquecento miliardi con il 70% a fondo perduto, e ragazzi, sono tanti soldi, ed è la prima volta che avviene una cosa del genere, ne beneficeranno molto gli stati del sud che già erano deboli e questo probabilmente aiuterà molto l'economia del sud dell'Europa a colmare il gap con i paesi del nord Europa. Potrebbe essere una grande svolta, ovviamente, sempre se gestita in maniera corretta, ragazzi, per far attivare, appunto, il ciclo economico. Però i mercati al momento non la prendono benissimo, stanno sul chivalà, stanno a guardare, quindi hanno aperto in negativo, ma stanno ritracciando di nuovo, ragazzi, anche perché poi seguono i mercati americani come sempre Wall Street. Lo spread italiano invece di BTP, lo spread italiano indeciso, ragazzi, non è sceso, però. Lo stesso il BTP, i BTP italiani sono fermi, non sono saliti i future dei BTP italiani, sono fermi, ragazzi, sono in attesa. Ma probabilmente saranno questi due grafici, spread e BTP, che ci daranno un po' le news prima del 6 maggio, quindi se noi volessimo sapere prima quello che stanno decidendo in Commissione Europea, se queste sovvenzioni saranno più sovvenzioni o più prestiti, dovremmo guardare un po' l'andamento dei titoli di Stato italiani, come sempre, e dello spread, perché ci indicheranno la strada. Quindi se ci saranno sovvenzioni e i numeri sono forti, probabilmente quello che vedremo sarà un rientro dello spread intorno ai 120-150 punti, ora siamo a 230-240. Perciò daremo un'occhiata a questi grafici anche nell'immediato futuro, proprio per capire questi recovery found se sono una notizia che potrebbe sconvolgere l'Unione Europea o meno. In ogni caso, ragazzi, passa la linea italiana, quindi l'Italia vince in questo momento, ma attenzione, siamo 1-0 e siamo ancora alla fine del primo tempo, la partita non è ancora finita, è ancora lunga, e solo dal 6 maggio in proi sapremo se effettivamente questa vittoria potrà essere considerata una vittoria sostanziale e sostanziosa per il nostro paese oppure sono le solite parole e questo 1-0 per noi si tramuterà in un pari e patta, tiriamo la moneta e si vede chi vince. Vabbè, ragazzi, ok, ci vediamo nel prossimo video, come sempre, ciao a tutti!